Per ribadire la difesa del diritto al lavoro, FIMI CISL e FIOMI CGLI Teramo con la RSU e i lavoratori della Celta e Tortoreto, martedì 26 marzo saranno in azienda dalle ore 10.30 per uno sciopero alla rovescia. Una forma di protesta che arriva dal passato ma che guarda al futuro con l'obiettivo di poterlo vivere senza arretramenti occupazionali, sociali ed economici. Si andranno allo stabilimento nonostante la cassa integrazione per sottolineare la necessità di salvare una realtà industriale importantissima per il territorio e con essa gli oltre 80 posti di lavoro. Abbiamo messo in atto una forma di protesta che si chiama lo sciopero alla rovescia che attueremo martedì prossimo in azienda. Questa è una forma di lotta nata negli anni 50 in particolar modo a Montorri e Alvomano. Si tratta di una forma di protesta nell'entrare in fabbrica, anche se siamo in cassa di integrazione a zero ore, per lavorare. Praticamente noi chiediamo di lavorare simbolicamente nel piazzale della Celta e Tortoreto per riaccendere il riflettore sull'avvertenza che come sappiamo tutti sta prendendo una piega molto brutta. Ieri abbiamo avuto un incontro con l'assessore Fioretti che ci ha garantito la partecipazione della regione anche martedì all'iniziativa che abbiamo intrapreso ed in più l'assessore Fioretti si è impegnato a darci sostegno per risolvere al meglio l'avvertenza della Celta anche tramite il Ministero dello Sviluppo Economico e i sottosegretari della Lega. Una situazione molto delicata, vi si è considerate che sono numerosi i lavoratori compromessi? Sì, si parla di 90 unità, di 90 famiglie che rischiano di perdere il posto di lavoro con un know-how molto alto e di fatti la Celta rischia la chiusura e una catastrofe sociale per il territorio di Tortoreto e non solo per la provincia di Teramo.